Compatto, agile e scattante, il nuovo Peugeot 2008 GT al vertice della gamma SUV del Leone è l'ideale anche per la guida in città, come dimostrano le immagini girate in un percorso romano. Design distintivo e forte personalità si uniscono alla tecnologia d'avanguardia ed una gamma motori che, nel caso di questo allestimento, contempla le versioni più potenti presenti al listino. Benzina PureTech da 155 CV e quella 100% elettrica da 136 di E2008, un SUV di ultima generazione che dispone dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida e che accoglie, in un abitacolo versatile caratterizzato dal Peugeot i-Cockpit 3D tridimensionale, per una guida ancora più rivoluzionaria e appagante, oltre che sicura. Per Peugeot, una concert car non è un libero esercizio di stile fine a se stesso. È parte di una strategia di brand, di una visione amplificata della sua immagine, che ispira il futuro stilistico e tecnologico. Peugeot sviluppa quindi le sue concert car in modo che siano funzionali e guidabili, concrete. Una storia che ha visto tappe importanti come la Quasar del 1984 o la Proxima del 1986, con il suo V6 biturbo da 680 CV. La svolta di Gilles Vidal con la SR1 è del 2001, con un concept che inaugura la visione Peugeot del terzo millennio, per arrivare alle più recenti Onyx, i 308R Hybrid e alla ammiratissima E-Legend. Una collaborazione, quella tra Peugeot e Focal, iniziata nel 2015 e che ha permesso di equipaggiare le più recenti auto del Leone con gli impianti Hi-Fi del prestigioso marchio dell'audio. Per ottenere migliori risultati, gli ingegneri Focal vengono infatti coinvolti fin dall'inizio della progettazione dei nuovi modelli, permettendo così di ottenere la massima resa acustica di impianti sviluppati specificamente per ogni singola auto. L'auto ideale per viaggiare nel futuro. Nuova Peugeot E208 100% elettrica è la protagonista del programma di Rai 2 Revolution Storie del Futuro, rinnovando il concetto dell'Umbore in the Future, coniato dalla Casa del Leone con l'avvento della transizione energetica. Nel nuovo programma, condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo, la Peugeot E208 accompagna il racconto di persone fuori dal comune che hanno realizzato imprese straordinarie guardando al domani.